Si torna alle province. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani ha presentato il disegno di legge sulla riorganizzazione delle province e delle città metropolitane adottato dalla Giunta. Bentrovati con le nostre notizie. Questa è la nostra notizia del giorno. Vediamo il servizio. Il testo riprende la proposta depositata in commissioni affari costituzionali del Senato adattata al contesto normativo siciliano. Le province saranno sei, più le tre città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. Il progetto di riforma individua, gli organi di governo e la loro composizione. Per il presidente Schifani con questo disegno di legge si va a colmare un vuoto che ha generato disservizi. I costi saranno gli stessi. Le province abolite sono state rimpiante da tutti gli italiani. Non vedo grandi resistenze sulla reintroduzione perché i cittadini hanno capito come la riforma del Rio sia stato un grande fallimento legislativo. Si troverà naturalmente un'intesa sia con Lanci che con Lupi. Ci saranno delle concertazioni, le audizioni sicuramente in commissione. Però il dato è tratto. Partiamo già da uno schema storicamente condiviso che aveva funzionato. Alla conferenza stampa di presentazione del DDL erano presenti anche il vice presidente della regione, Luca San Martino, e l'assessore alle autonomie locali, Andrea Messina. Sappiamo bene purtroppo della disorganizzazione dei servizi e delle manutenzioni delle strade perché non c'era un interlocutore. Abbiamo assistito a decenni di commestariamenti delle nostre province e adesso così in attemperanza anche al nostro programma di governo abbiamo ritenuto opportuno e l'abbiamo fatto in tempo record, come vedete, di ridare di nuovo vita alle province con il voto a soffraggio universale. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui. Tra pochissimo torniamo con tutte le altre notizie. Vi aspetto. Alcamo arrestato un rapinatore sarebbe il responsabile del colpo messo a segno lo scorso mese di gennaio ai danni di un negozio di abbigliamento. Promozioni alla questura, importanti riconoscimenti per i funzionari Damiano Lupo e Andrea Linzitto. La terza scinnuta, ieri nella chiesa delle anime sante del purgatorio, sono tornati i riti guaresimali con i gruppi della processione dei misteri di Trapani. Troppe criticità alle carceri di Trapani. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria chiedono un incontro con il provveditore. È a rischio la sicurezza. Poi lo sport, prova dura. Domani alle 18 la Palacanestro Trapani affronterà la prima della classe. La Vanoli Cremona, il Trapani Calcio, se la vedrà invece con la San Cataldese. Canali da ripulire e strade da sistemare. Nella pagina dell'approfondimento parleremo delle richieste dei cittadini di Nubia che hanno chiesto ovviamente maggiore attenzione costituendosi in un comitato. Eccoci qui, buongiorno e ben ritrovati con le nostre notizie. Agli arresti domiciliari un alcamese di 36 anni è accusato di rapina. Vediamo. Individuato il presunto rapinatore che lo scorso mese di gennaio mise a segno un colpo ai danni di un negozio di abbigliamento nella zona del centro storico di Trapani. Si tratta di un alcamese di 36 anni che ora è agli arresti domiciliari. Nei suoi confronti sussistono gravi indizi di colpevolezza. Il GIP del Tribunale di Trapani, condividendo le risultanze investigative raccolte dai carabinieri, ha emesso contro l'indagato un'ordinanza di custodia cautelare, provvedimento che scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell'arma di Trapani, coordinati dalla Procura della Repubblica di Trapani, che dopo aver ascoltato alcuni testimoni e dopo aver analizzato le immagini estrapolate dalle telecamere e dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire al presunto rapinatore. L'uomo, con il volto coperto, si sarebbe introdotto nell'esercizio commerciale e, approfittando dell'assenza di clienti, avrebbe minacciato con un coltello a serramanico la titolare, costringendola a consegnare il registratore di cassa contenente la somma di 180 euro circa. Portato a compimento il suo progetto è fuggito a piedi, abbandonando per la strada il registratore di cassa dopo averlo svuotato. L'indagato, che allo Stato è solamente indiziato di delitto pur gravemente e che la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossegue ai principi costituzionali di presunzione di innocenza, è stato sottoposto agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Due funzionari sono stati promossi alla questura di Trapani. Il Consiglio di amministrazione per il personale della Polizia di Stato, su proposta del Capo della Polizia, ha determinato la promozione su tutto il territorio nazionale di funzionari meritevoli e di coloro i quali hanno maturato gli anni di servizio necessari al transito alla qualifica superiore. Gli importanti provvedimenti hanno interessato anche due funzionari in servizio. La questura di Trapani è stata promossa la qualifica di vicequestore Damiano Lupo, attuale dirigente del commissariato di Mazzara del Vallo, il quale negli anni precedenti di carriera ha rivestito importanti incarichi come quello presso la questura di Trapani, di Capogabinetto e dirigente del commissariato di Castellamare del Golfo e dell'Ufficio Immigrazione, e presso la questura di Agrigento, quale dirigente del commissariato di Sciacca e dell'Ufficio Immigrazione, occupandosi in prima linea del fenomeno degli sbarchi di migranti. È stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione la promozione tra i funzionari presenti presso la questura di Andrea Linsitto, attuale dirigente della locale Digos, già proveniente dalla questura di Genova, che, da commissario capo, è stato nominato vicequestore aggiunto, acquisendo quindi il grado dirigenziale. Il questore Salvatore Larosa, oltre a congratularsi con i funzionari promossi, ha loro augurato un buon lavoro sempre al servizio dei cittadini e vicini alla gente, per la sicurezza di tutti. Emergono intanto nuovi particolari sull'arresto per corruzione del medico della Cassa Marittima di Trapani, Franco Scaturro, ed esso i domiciliari. Vediamo. I militari della Guardia di Finanza di Trapani lo hanno arrestato in flagranza di reato, mentre intascava a tangenti per agevolare le pratiche sanitarie, nella sua qualità di medico della Cassa Marittima. Lui, Franco Scaturro, ha già confessato, dichiarandosi disponibile a collaborare con gli inquirenti e a restituire il maltorto. Presidente onorario del Mazzara Calcio, nonché giornalista sportivo, ora Franco Scaturro è ai domiciliari con l'accusa di corruzione. «Aiutiamoci», diceva l'indagato, a chi aveva bisogno di un certificato di malattia. E lui era pronto a rilasciarlo senza visitare il paziente, in cambio di un regalino, 50 euro. I militari delle Fiamme Gialle lo hanno bloccato dopo aver ricevuto il denaro da un marittimo che è stato denunciato. Quest'ultimo voleva prolungare lo stato della sua malattia e il medico lo avrebbe assecondato senza visitarlo. Da tempo gli investigatori gli erano addosso perché quella pratica, a quanto pare, era ben collaudata. I finanzieri hanno anche sequestrato una sorta di libro mastro dove venivano annotati i nominativi dei marittimi che mettevano mano al portafogli. Nel corso dell'udienza di convalida del fermo, il medico davanti al giudice per le indagini del Tribunale di Trapani, dopo aver ammesso le proprie responsabilità, Scaturro si è detto anche pronto a risarcire la pubblica amministrazione, resta però ai domiciliari. Torniamo a parlare del processo scrigno che è ormai alle battute finali. Oggi la requisitoria del PM e poi il 30 marzo la sentenza. 20 anni di carcere per l'ex deputato Paolo Ruggirello. È una pena severa quella invocata dal PM nel corso della sua requisitoria al processo scaturito dall'operazione antimafia denominata Scrigno che si celebra innanzi al Tribunale di Trapani, presieduto da Daniela Troia. Richieste anche le condanne di tutti gli altri imputati. Nino Buzzitta, 21 anni. Vito D'Angelo, 20 anni e 6 mesi. Giuseppe Grignani, 2 anni. Vito Gucciardi, 17 anni. Vito Mannina, ex consigliere provinciale e comunale, 8 anni. Alessandro Manuguerra, ex consigliere comunale di Erice, 8 anni. Marcello Pollara, 3 anni. La sentenza è prevista per il prossimo 30 marzo, dopo le arringhe difensive. Tra le parti civili, il Comune di Erice ha chiesto un milione e mezzo di euro per danni di immagine. La regione siciliana e l'Aras assenti oggi decadranno dalla possibilità di chiedere il risarcimento. L'inchiesta a Scrigno è stata il risultato di una approfondita indagine del nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani, coordinata dalla Procura Distrettuale di Palermo e che nel marzo 2019 ha visto l'arresto di diversi personaggi appartenenti alla cosca mafiosa di Trapani come i fratelli Francesco e Pietro Virga, l'ex consigliere comunale, Franco Orlando. Scrigno ha avuto già un epilogo, anche in secondo grado, per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, ben 17. In particolare, i giudici d'appello hanno condannato a 12 anni di reclusione Carmelo Salerno, assolto in primo grado, ha aumentato le penne per Michele Martinez da 5 anni e 4 mesi a 13 anni e 4 mesi, per Francesco Orlando da 5 anni e 4 mesi a 12 anni e 8 mesi, per i fratelli Virga, Francesco e Pietro, rispettivamente da 8 anni a 16 anni e 8 mesi e da 8 anni a 19 anni e 4 mesi. Diminuito invece le condanne per Francesco Russo che è passato dai 4 anni del primo grado a 1 anno e 6 mesi e per Giacob Stelica da 4 anni a 1 anno. Per questi ultimi due la pena è stata sospesa. Confermato infine il verdetto di primo grado per Vincenzo Ferrara, 3 anni e 4 mesi, Francesco Peralta, 8 anni e 4 mesi, Giuseppe Piccione, 8 anni, Piero Cusenza, 8 anni e 4 mesi, Mario Letizia, 8 anni e 4 mesi, Leonardo Russo, 3 anni, Michele Alcamo, 3 anni, Antonino Daguano, 3 anni e 4 mesi, Francesco Todaro, assolto e Tommasa di Genova, assolta. Una piccola correzione, ovviamente la requisitoria del PM si è tenuta ieri e non oggi. Ci fermiamo soltanto pochissimo e ritorniamo con le altre notizie. La terza scinnuta ieri nella chiesa delle anime sante del Purgatorio sono tornati riti quaresimali con i gruppi della processione dei misteri di Trapani. Troppe criticità alle carceri di Trapani, le organizzazioni sindacali della polizia penitenziaria chiedono un incontro con il provveditore e a rischio la sicurezza. Poi lo sport, prova dura, domani alle 18 la palacanestro Trapani affronterà la Vanoli Cremona, prima in classifica il Trapani Calcio, se la vedrà invece con la San Cataldese. Secondo venerdì di quaresima, terza scinnuta dei gruppi della processione dei misteri. Ieri sera è toccato a Gesù dinanzi ad Anna, del ceto dei frutti vendoli e la caduta al cedron dei naviganti. Vediamo. La funzione religiosa quaresimale si è aperta con l'esibizione musicale a Piazzetta Purgatorio della banda Maestro Asaro di Paceco. Alle 19 c'è quindi stato un momento di preghiera con Don Alberto Genovese davanti ai due gruppi, Gesù dinanzi ad Anna, del ceto dei frutti vendoli e la caduta al cedron dei naviganti. Possiamo dire alla terza scinnuta che le cose vanno benissimo, oltre alle nostre previsioni erose, individuazioni di quello che succede. Abbiamo riconquistato, abbiamo ripreso la nostra normalità. Dopo la pandemia che ci ha dato grande sofferenza, ora ritorniamo a riprenderci i nostri riti, i nostri momenti, le nostre sensazioni. Naturalmente manca qualcuno e si sente, manca il nostro comandante Bosco, che era il fiore all'occhiello, era la nostra luce e il nostro cammino. Però andiamo avanti comunque nel rispetto delle nostre tradizioni e nel rispetto di quello che noi stiamo facendo. Stiamo portando avanti un grosso lavoro, un grosso lavoro che anche oggi ci ha visto i protagonisti alla Fondazione Federico II di Palermo e protagonisti alla presenza di tante realtà europee di carattere delle Settimane Sante. C'erano presenti parte dell'Italia, parte della Spagna e noi, piccola comunità trapanese, abbiamo fatto la nostra parte. Perciò abbiamo detto che dobbiamo fare sistema, dobbiamo essere tutti uniti, dobbiamo fare la grande Settimana Santa europea. Questo è il programma che ci portiamo avanti e cerchiamo di rendere unita questa città che è al centro del Mediterraneo. Saremo il fulcro di una cultura che si chiamerà Settimana Santa e speriamo che nel 2024 riusciremo a convolgere tutti. E domenica 5 marzo alle 20.30 nella Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio si terrà un concerto di musiche della Settimana Santa dal titolo Cedron, alla memoria del comandante Franco Bosco. Quest'anno la scenuta del Cedron dei Naviganti ricorre proprio nella data di fondazione della Società di Mutuo Soccorso che da sempre ha gestito sempre il sagro grutto, la caduta al Cedron appartente al Cedro dei Naviganti. Pertanto assieme in collaborazione alla nuova banda Gabriele Asaro di Paceco abbiamo organizzato un concerto che si terrà domenica sera alla Chiesa del Purgatorio alle 20.30. Il titolo del concerto sarà Cedron alla memoria del comandante Franco Bosco. Sarà un momento per ricordare il nostro amato presidente della Società di Mutuo Soccorso nonché anche presidente fondatore dell'Unione Mestrante e presidente onorario. Ci sarà sicuramente un momento particolare di ricordo. Pertanto invito tutta la cittadinanza ad essere presente. Troppe criticità alle carceri di Trapani dura nota delle organizzazioni sindacali di categoria. Vediamo il servizio. Le organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria SAP, OSAP, USP, FI, NS, CISL hanno inviato una pesante nota di protesta al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria Cinzia Calandrino con la quale denunciano le moltissime criticità delle carceri Pietro Cerulli di Trapani. Per il sindacato la costante assenza del direttore sta determinando preoccupanti situazioni di stallo di tutte quelle attività che necessitano di una decisione dell'autorità dirigente. Le poche volte che il direttore fa accesso in istituto se legge nel documento non risultano sufficienti né a visionare, tantomeno ad evadere quanto di sua competenza. Ciò si ripercuote pericolosamente sull'ordine e la sicurezza atteso che incessanti e vehementi sono le lagnanze da parte della popolazione detenuta che attendono anche mesi per ricevere l'esito di loro istanze afferenti colloqui, le telefonate e altro. Questa assenza del dirigente sottolineano le organizzazioni sindacali ha comportato nell'ultimo periodo la mortificazione delle prerogative sindacali spesso si è assistita ad iniziative unilaterali senza la possibilità di apportare un contributo costruttivo a situazioni che riguardano l'attività lavorativa del personale di polizia penitenziaria come turni notturni di otto ore e altro le cui conseguenze ricadono sugli agenti ed ancora grande è stata la confusione creata con la vicenda interpelli per accedere a vari posti di servizio per i quali il provveditore su impulso di una sola sigla sindacale Will ha stravolto tutto non concedendo nemmeno la possibilità a coloro già immessi da più di un anno all'interno delle cariche cosiddette fisse che ne avrebbero avuto titolo di parteciparvi in pratica sarebbero state violate le disposizioni in tema sindacale addirittura, rimarca la nota che su impulso di una sola sigla sindacale la stessa da cui nasce la nostra questione interpelli si stia pensando sempre unilateralmente di istituire la figura di vice coordinatore dell'ufficio matricola iniziativa per la quale le organizzazioni di categoria fin d'ora hanno diffidato l'amministrazione a procedere i sindacati hanno inoltre evidenziato che a breve nonostante le ultime assegnazioni di personale atteso l'elevato numero di dipendenti che verranno posti in quiescenza a cui si aggiungeranno altri momentaneamente fuori servizio poiché ammalati e a disposizione della commissione medico-ospedaliera di Messina si rideterminerà una situazione operativa esplosiva ed insostenibile infatti tutto il personale con elevata anzianità sia anagrafica che di servizio sarà costretto a ricoprire più posti di servizio come già avviene oggi e ad espletare turni la cui fine in alcuni casi è indeterminata alla luce di tutto ciò i sindacati chiedono un confronto con l'amministrazione locale in presenza del provveditore minacciando azioni di protesta l'assessore ai lavori pubblici del comune di Trapani Giuseppe Pellegrino ha annunciato l'avvio dei lavori per la sistemazione delle buche e delle strade di Trapani lo ha annunciato nel corso della trasmissione Repubblica ospite in studio del direttore Nicola Baldarotta su questa cosa la città e i cittadini hanno ragione sui disagi che stanno vivendo però l'amministrazione sta provvedendo e ha iniziato realmente a operare solo che le pioggi anche di questi giorni di oggi e magari fra ancora qualche giorno hanno ritardato di almeno una ventina di giorni l'inizio delle pavimentazioni con gli asfalti quindi un certo lavoro già è stato fatto ma la cosa importante qual è? che ci sono due appalti operativi da parte dei lavori pubblici uno che era iniziato nel 2020 poi si era fermato ma è ripartito proprio 20 giorni fa un mese fa per la sistemazione di strade marciapiedi buche pavimentazioni anche nelle scuole per esempio di Chissitta per uno degli appalti un altro soprattutto è mirato alla sistemazione delle buche che ha iniziato e nel centro storico già una parte di lavori sono stati fatti ma adesso sono fermi e quindi si spera dalla prossima settimana di poter iniziare io guardi mi permetto di dire che nel mese di marzo sicuramente daremo una risposta a tutta la città ad iniziare da Unmari che c'è il capolinea nella zona della stazione dell'ATM a Fulgatore con una strada la via Fumosa la via Scularici un tratto di via Scularici a Mocarta per andare a Chissitta in una traversa di via Zabbarelle dico ma queste sono pavimentazioni stradali più ampie però interverremo anche sulle buche dalle frazioni alla città ripeto abbiamo iniziato i lavori nel centro storico perché per i misteri dobbiamo essere pronti e questo mese di marzo sicuramente la città cioè i cittadini vedranno i risultati oltre 4.000 presenze e mezzo milione di spettatori tra dirette video e radio la cifra ufficiale ad una settimana esatta dal concerto al parco archeologico di Selinunte a nome loro ne consacra il successo i numeri parlano chiaro mezzo milione di spettatori tra dirette video e radio su ANSA RAI Radio 2 RAI Play Digitale Terrestre Canale 202 e Casselvetrano Selinunte.it 4.000 presenze invece a Selinunte e questa la stima reso ufficiale ad una settimana esatta di a nome loro musiche e voci per le vittime di mafia il concerto che si è svolto al parco archeologico di Selinunte lo scorso 24 febbraio una grande risonanza mediatica che determina un inaspettato successo di quella che speriamo essere la prima edizione di un evento ricorrente Shade Mangiaracina la musicista castelvetranese e teatrice dell'evento dal parco di Selinunte ha già lanciato la proposta da svolgersi per la primavera del 2024 intanto il 9 marzo alle ore 22.45 il concerto a nome loro verrà trasmesso sul retrato ci tengo molto a fare sapere una cosa che non è un evento straordinario questo ogni artista siciliano si fa portavoce di un messaggio antimafia ogni artista siciliano è sempre molto attivo l'importante che lo sia la società civile ecco la mia presenza qui vuol dire invitare invogliare la gente a non limitarsi a scrivere qualche battuta sui social o a ricordarsi l'antimafia soltanto i giorni nei quali sono morti i nostri eroi di mafia quali Giovanni Paolo Peppino tutti i giorni dobbiamo stare accanto ai vivi che lottano e lottano ancora perché la mafia non è stata abbattuta con l'arresto di Messina Denaro quindi che continuano a lottare stanno al fianco delle forze dell'ordine ma soprattutto di quella società civile che denuncia le mafie è importante esserci è importante la partecipazione della gente perché io sono convinto che in altri posti non avremmo avuto la stessa risposta c'è veramente tanta gente tanta gente qui per il motivo vero per cui essere qui per la liberazione del territorio e sono felice di esserci anch'io andiamo agli appuntamenti sulla nostra emittente di questa sera alle 19.40 alle 22.40 andrà in onda il nostro magazine invece alle 21 riproporremo la trasmissione sul talk che si è tenuto alla Beat di Milano lo scorso febbraio nello spazio di The Best West in Sicily dedicato all'evento che si terrà a Erice a fine aprile dal titolo Mangia Sano Italia ospiti il presidente dell'associazione premio Saturno Trapani che produce Massimo Marino per la fondazione Ettore Maiorana di Erice Lorenzo Zichichi la sindaca di Erice Daniela Toscano e lo chef gastronauta Peppe Giuffré ci fermiamo soltanto un secondo ma ovviamente torno con lo sport eccoci con lo sport subito una nota che riguarda l'handball Erice che non gioca questo fine settimana in realtà è fermo il campionato per cui una pausa obbligata di ristoro per le arpie andiamo invece adesso al basket perché domani alle 18 il fischio d'inizio di Pallacanestro Trapani Vanoli Cremona a proposito di partite difficili quella di domani per la Pallacanestro Trapani lo è di certo non solo per rispetto della classifica che dice che la Vanoli Cremona è la prima della classe ma dirla in termini cestistici i Granata non si accoppiano benissimo con la squadra lombarda detto questo le partite vanno poi giocate e la scia delle imprese di Torino ancora riecheggia da segnalare per Cremona l'assenza dell'americano Lesey la forza di Elibegovic De Negri e Compani dovrà essere contrastata dai ragazzi di parente che ancora senza Mollura e Carter potranno contare su Romeo nonostante il suo lungo impiego nella gara scorsa Stumbris ancora non al pieno della forma ma se il risultato è quella di domenica scorsa va bene uguale e poi qualche minuto anche per Massone alle prese con un problema Maltendine e Achille a dare una grossa mano anche Rupil Renzi ovviamente e Guayana usciti benissimo dalla sfida con Torino proprio il giocatore trapanese in merito alla partita di domani ha dichiarato la vittoria contro Torino in assoluta emergenza ci ha fatto prendere maggiore consapevolezza nei nostri mezzi c'è tanto entusiasmo ma dobbiamo essere bravi a rimanere super concentrati avendo sempre chiaro il nostro obiettivo entrare nelle prime nove posizioni e garantirci così la salvezza anticipata la Vanoli è una squadra di campioni ma provenevo a dire la nostra coach parente avrà a disposizione il nuovo giocatore americano arrivato due giorni fa in città Steven Davis vedremo domani se sarà già in grado di dare una mano concreta alla squadra appuntamento allora a domani alle 18 con Pallacanestro Trapani Vanoni Clemona dopo la partita di domani per concludere la stagione regolare prima della fase d'orologio alla Pallacanestro Trapani se la dovrà vedere con Latina in trasferta e poi in casa con Piacenza andiamo a vedere a questo punto anche le partite della 24esima giornata del campionato di A2 il girone verde per cui ormai tutte si fanno interessanti oggi giocheranno Stella Azzura Roma contro Cantù e Juvi Cremona contro Latina domani invece sarà la volta di Pallacanestro Trapani Vanoni Cremona Torino Rieti Agrigento Piacenza a Casale Monferrato Treviglio e a riposare per questo turno sarà l'Urania Milano ci spostiamo Sponda Calcio e andiamo a vedere la schermata con la 26esima giornata del campionato di Serie D in questo caso il girone I Castrovilla Rilocri a Cireale Ragusa Cittanova Vibonese Lamezia San Luca Paterno Mariglianese Reala Versa Santa Maria Cilento Canicattilicata Città Sant'Agata Catania San Cataldese Trapani quindi domani alle 15 il Trapani affronterà la San Cataldese in trasferta allo stadio Valentino Mazzola vediamo il servizio Il Trapani Calcio è pronto per la trasferta di domani a San Cataldo oggi pomeriggio la rifinitura e la conferenza stampa di presentazione del match dopo il pareggio di domenica scorsa acciuffato in piena zona Cesarini i ragazzi di Mister Torrisi puntano al bottino pieno contro la San Cataldese degli ex Dolenti e Maltese la storia calcistica tra i due club ci insegna che la San Cataldese può essere annoverata tra le bestie nere del Trapani per quanto riguarda la classifica e Granata occupano la quinta posizione con i suoi 39 punti la squadra di Mister Infantino di puntine a 34 occupa la nonna posizione quindi una vittoria per la San Cataldese vorrebbe dire poter credere concretamente nei playoff per l'occasione infatti i padroni di casa hanno sancito la giornata verde amaranto in cui non saranno validi gli abbonamenti di solito queste iniziative vengono scelte in base all'importanza della gara e dell'avversario un elemento in più che ci lascia intendere che partita sarà dopo gli allagamenti dello scorso autunno a Nubia gli abitanti si sono costituiti in un comitato per sollecitare una serie di interventi da parte dell'amministrazione comunale a partire dalla pulizia dei canali a curare il servizio dell'approfondimento come tra l'altro vedete da poco il nostro Mario Torrente sono diverse le strade segnalate dove i residenti hanno sollecitato la pulizia dei canali pieni di vegetazione che rallenta e ostruisce il passaggio dell'acqua soprattutto in caso di pioggia abbondante come in via Carlo Alberto della Chiesa Federico II Stupormundi Garibaldi e Salinella e lo scorso autunno c'è stato chi si è ritrovato l'acqua dentro casa era del mese di ottobre che abbiamo avuto 15 centimetri di acqua dentro ma malgrado abbiamo dato abbiamo fatto un esforzo alla procura tramite l'avvocato giustiniano non ci sono stati interventi di nessun genere abbiamo pure fatto richiesto delle firme abbiamo fatto e siamo andati al consiglio comunale di Paceco per un consiglio straordinario aperto ma risposte zero come se non ci interessa nessuno non sono stati fatti interventi né più di canali né più di tombini che ma da anni non è da ora siamo abbandonati a Nubia Nubia dovrebbe essere un fiore all'occhiello c'è poi il problema delle strade non asfaltate che quando piove si trasformano in un pantano con buche piene d'acqua come in via Martim Pescatore la via Ciacciamondalto la via Martim Pescatore e la via Levanzo che sono non asfaltate c'è tanto fango come interventi abbiamo avuto le pale mentre che pioveva quindi si è causato soltanto fango e non si poteva più uscire di casa quando ora piove diventa un lago maggiore perché con le fosse che hanno tolto diventa tutto tutto il piano quindi mare quindi un pantano quasi di fango no no senza quasi fango fango le macchine passano nel fango c'è chi lascia le macchine prima per trasportare l'acqua c'è gente comunque che ha difficoltà nel camminare anche a piedi quindi non si può neanche camminare a piedi i bambini non possono scendere dalle macchine perché si sporcano tutti i residenti che chiedono diversi interventi per nubbia come la pulizia dei canali e la sistemazione delle strade hanno costituito un comitato spontaneo per presentare le richieste di risarcimento danni e per disporre una denuncia si sono rivolti all'avvocato Marina Giustiniano questo comitato è sorto a seguito degli eventi alluvionali del mese di settembre e di ottobre scorso molte persone mi hanno contattato per presentare delle stanze delle richieste di risarcimento danni nonché un esposto alla Procura della Repubblica il problema deriva dalla diciamo dalla vegetazione spontanea nonché dai rifiuti che sono presenti nei canali che imperiscono il normale riflusso delle acque probabilmente tutto ciò deriva da una mancanza di una manutenzione sia ordinaria che straordinaria motivo per cui si è costituito questo comitato hanno chiesto che venisse indetto un consiglio comunale aperto proprio per discutere della situazione del degrado di Nubia si sarebbero aspettati subito magari un intervento ma da quello che ho ascoltato così non è stato tutt'oggi la situazione è ferma aspettiamo delle risposte anche per quanto riguarda il risarcimento danni canali da ripulire e sistemare anche in via Salinella dove lo scorso settembre i residenti si sono visti l'acqua dentro casa per diversi centimetri è successo qua alla fine del mondo io giustamente ero solo a casa con mia moglie e mia figlia perché mio genio era lavorato fuori e giustamente non avevo nessun aiuto di nessuno ho visto tutta quest'acqua mi ho visto veramente confuso di tutto e poi sono venuti i vigili urbani compreso il sindaco e hanno visto di quello che è capitato e mi hanno portato dei sacchi per mettere davanti la porta ma i sacchi che cosa dovevano fare già l'acqua era dentro casa l'acqua era dentro qui che situazione abbiamo visto i canali che sono sporchi ci può un po' spiegare questa storia dei canali la situazione è qua a Erte che prima questo canale portava un po' di acqua perché il fabbricato era di meno adesso i fabbricati sono aumentati qua di via Paraco via Donna Mandella che l'acqua vengono tutte in via Salenella e il canale non ce la fa più e in Dante il canale è tutto sporco nessuno vede per pulirlo siamo sempre a Nubia via Supermundi la ex via Dante questo è il canale che costeggia questa strada piena zeppa di vegetazione e in questo canale che costeggia questa strada ecco una palma una pianta che dalla sua consistenza sembra che è qui già da un bel po' di tempo questa è la situazione a Nubia lungo questa strada in questo canale a Nubia la sua Grazie a tutti.